Amici di Volonbrite, ben ritrovati. Abbiamo il piacere di avere qui con noi Luisa Tatoni, direttrice della rivista Giovani Genitori. Luisa, che cos'è per te una buona notizia? Come dicevo prima, le notizie buone ontologicamente non esistono. Quello che le rende buone è il fatto che aderiscano a dei codici di etica professionale, per cui siano notizie che in qualche modo portano un beneficio al lettore con possibilità di crescita, di ampliamento culturale e di utilità concreta. Come le buone notizie riescono a influire positivamente nel benessere delle persone? Una comunicazione fortemente polarizzata verso gli estremi negativi o anche positivi, cioè l'eccesso della buona notizia, la futilità, la dimensione volatile, assolutamente troppo leggera, di sicuro non sono una corretta informazione e possono fare molto male in termini di ansia, di crescita della paura, abbiamo visto tutti quello che è successo in questi anni nella politica italiana con una costruzione ormai acclaratamente e scientificamente voluta di toni allarmistici sul contesto sociale, quindi insomma le cattive notizie date in maniera molto molto strutturata possono stravolgere una politica nazionale, ugualmente notizie molto molto leggere, molto molto inutili, molto futili distolgono l'attenzione da elementi che invece sono concreti e vanno dibattuti. Ti faccio un esempio, io lavoro su una rivista che si occupa di famiglia, un esempio, c'è una cattiva notizia da molto tempo in Italia, la natalità è a livelli bassissimi, siamo a 1,3 figli per donna, significa che siamo sotto la, cioè stiamo in una decrescita di bambini ormai allarmante, per cui ci ritroveremo, ma non fra molto, fra una ventina di anni, a essere un popolo di cinquantenni che devono assistere dei grandi anziani, cioè delle persone con delle invalidità perenni che vengono portate avanti per molti molti anni. Questa è una cattiva notizia che non viene affrontata, ma sul fronte invece dei bambini della famiglia così viene affrontata adesso, in questi giorni precisi, con grandissima enfasi, la questione delle telecamere negli asili nido, sì o no. Allora questa è una questione, questa notizia è una cattiva notizia perché non è un punto poi veramente importante da discutere con la vehemenza con cui viene discusso l'argomento, si potrebbe parlare un po' di natalità, di denatalità e un po' anche di telecamere. Ed è anche una notizia futile che di fatto viene fuori semplicemente perché sull'etica stimola il pubblico a seguire perché è facile, quella delle telecamere genera moltissima polarizzazione e richiede comunque una partecipazione emotiva, facile e immediata che è quella molto tipica in questo momento dei social e che tutti gli altri media stanno purtroppo e anche necessariamente perché il mercato lo chiede copiando. Come ultima domanda ti chiedo qual è il tuo contributo allora nel diffondere le notizie positive? La rivista su cui lavoro io che ormai ha 14 anni di storia e insomma non è proprio la rivista più semplice ha adottato una strategia che a livello editoriale molti altri giornali hanno adottato e che può essere vincente ed è quella di incominciare a pensare non più al mercato, ai numeri, a quello che ti viene chiesto a quanti follower hai, a quanti retweet hai delle tue cose ma al tuo lettore se tu diffondi buone notizie ma nel senso se tu fai buona informazione il lettore ti premia, ti segue, ha fiducia in te e probabilmente si stima ma queste perlomeno sono stime globali che non dico io ma che vengono dagli Stati Uniti dai massimi centri di ricerca può darsi che ritorni anche a pagarti e quindi versando un contributo ai media che fanno una corretta informazione può darsi che in futuro questi media si possano sganciare da un mercato come quello della pubblicità che ormai sostiene la maggior parte dell'editoria in tutto il mondo che è un mercato fortemente ricattatorio che vuole le cattive notizie perché le cattive notizie, le notizie allarmistiche fanno numero, fanno cronaca, fanno follower Ringraziamo Luisa per la sua disponibilità e da Volumbrite è tutto